Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domani sarà domenica ecologica la quinta e ultima della stagione, stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, ci saranno delle deroghe, dettagli su romamobilita.it sempre domani la mattina a talenti tra le 7.30 alle 12.30, evento sportivo che comporterà una deviazione per le linee 86, 350, 351 e 435, domani pomeriggio invece in centro corteo tra Porta San Paolo, Piramide, Viale Aventino, il Circo Massimo e Piazza Bocca della Verità tra le 13.00 e le 16.00 di domani possibile deviazione per 24 linee tra bus e tram.